Gremita ieri mattina la sala del Cineteatro Corallo a Torre del Greco per la presentazione ufficiale della candidatura di Luigi Mennella e della coalizione che lo sostiene. Al fianco dell'avvocato penalista ben 11 liste. Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico. Per le persone la comunità, Sinistra Civica Ambientalista, Torre del Greco sul Serio, Partito Repubblicano Italiano e Valerio Sciavolino per Torre. In campo professionisti, giovani e non solo. Ciò che ci accomuna, detto con entusiasmo Mennella ai microfoni di TV City, è la voglia di cambiare questa città. Che bella coalizione, tanta gente bella per bene che ha voglia di cambiare la città e questa è la cosa che mi emoziona di più questa mattina. Da qui partiamo dalla Villa Comunale per tutta la città, per l'intera Torre del Greco. Sono 11 i movimenti tra liste e partite che la sostengono? Sì, 11 grandi personaggi che hanno contribuito a realizzare questa coalizione e tutto il resto di candidati che subito hanno aderito a questo modo di pensare nuovo, a questa voglia di cambiare la città, a questo sentimento che si esprime ma con un unico minimo, come dire, minimo comune e multiplo che è l'amore per la città di Torre del Greco, questo che è importante. Come si preannuncia questa competizione elettorale? Io porto avanti quello che sono i nostri ragionamenti, portiamo avanti quello che sono i nostri sentimenti, la voglia di trasparenza, la voglia di pulizia, la voglia di lavoro, la voglia di metterci a disposizione da adesso per la città di Torre del Greco, un comune che è al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio del comune come è stato fino adesso. Torre del Greco ha bisogno di rinnovamento o di volti nuovi? Sicuramente, questo è simbolico, basta vedere stamattina quanta gente, quante facce nuove ci sono per poter mettere in modo progressivamente un sistema che sia quello di cambiare un consiglio comunale, in tutti i sensi. E ci sono anche tanti giovani che scendono in campo? Ci sono tantissimi giovani, tantissimi professionisti, lavoratori, gente comune, tutti con lo stesso sentimento come dicevo prima. Tra i punti programmatici, attenzione per la risorsa male, le politiche sanitarie, quelle del lavoro, il turismo, la sicurezza, scuole, infrastrutture e numerosi altri obiettivi da raggiungere.